Nuova vision, SMS, che significa? Questi studenti SMART in effetti sono gli studenti seri che hanno grande spirito di responsabilità, motivati, intraprendenti, creativi e SMART, come la parola stessa suggerisce, che vogliono raggiungere un ottimo risultato in maniera molto veloce. Giovanni? Vogliamo che questi studenti siano persone normali come noi, cioè SMART, che hanno il desiderio subito di avere l'indipendenza finanziaria, subito l'indipendenza abitativa e subito il lavoro che piace. E quando fanno il lavoro che vive, soprattutto, credo che le ragazze mi capiscono bene a che cosa mi riferisco, vero Daniela? Eh sì. La fondazione dei Gentili sa che cosa ci dice? A livello statistico, gli italiani sono economicamente indipendenti solamente all'età di 40 anni. E se procediamo, Giovanni? Il 67% dei giovani adulti italiani vive con i genitori fino a 34 anni, quindi li appesantisce. Noi proponiamo un nuovo parto con le famiglie, cioè di rinegoziare un nuovo accordo, ti trovi subito il lavoro, ti trovi subito alla tua casa e arrivi a Gozzi, un nuovo rapporto con i genitori e se vuoi ti crei subito una nuova famiglia. E lo dico soprattutto alle ragazze che hanno una cronomiologia molto diversa da noi maschietti. Dipende dai soggetti. Tutti ci si infonda un altro dato. Sì, quello di Sodezzo. Sette italiani su dieci sono scontenti al lavoro. E questo è un dato che io sottolineerei. Perché il lavoro è qualcosa che si porta cucita addosso in un vestito, ci si alza ogni mattina a fare un lavoro. E se non piace, la condanna è una sola, l'infericità. Però Giovanni... Fare per 8 ore al giorno, per 20-30 anni, un lavoro deprimente e noioso porta irrimediabilmente alla depressione e fai il tuo downgrade. Noi invece facciamo outgrade.